A lo scrittore che ha coltivato l'inquietudine delle domande nel solco della grande elezione di Sciascia, al suo teatro che abisce l'indagine sul tempo e la storia, alla visione ispirata dall'immenso patrimonio musicale e lirico del bel paese, al suo cinema che è riuscito a coniugare il realismo con l'infantastico, la tensione civile di Rosi con uno sguardo aperto sul mondo, a un intellettuale italiano, a uno spirito libero simbolo di un sud che ha saputo proiettarsi con la forza del suo pensiero in Europa, al maestro Lombardo Alleva il premio edizione 2023, un premio importante che premia l'arte e la responsabilità sociale del cinema e dell'arte? Beh, guardi, mi fa molto piacere perché da un lato suggella questo mio rapporto con Napoli e dall'altro mi piace proprio l'intitolazione di questo premio. Io sono palermitano e so bene come interpretare questa responsabilità sociale che in questo momento secondo me richiede per noi tutti, ognuno col suo ruolo, di puntare decisamente a tutti quei giovani, quei quartieri dove non ci sono speranze, bisogna creare delle speranze, questo io credo che sia oggi la responsabilità sociale che bisogna mettere in campo. Grazie a tutti!